Tanti marchigiani e tante persone provenienti anche dalle regioni limitrofe hanno deciso di trascorrere parte delle vacanze natalizie nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini ad Ussita e nella vicina frazione di Frontignano, una delle più belle località dell'Appennino. In particolari i giorni dal Capodanno fino all'Epifania hanno visto un grande afflusso di sciatori a Frontignano fino ad arrivare alle 4.000 presenze e l'inevitabile difficoltà nel trovare parcheggi, l'assistenza al traffico resa dai carabinieri e dalla protezione civile di Pieve Torina hanno permesso regolare flusso e deflusso degli autoveicoli. Una giornata piacevole per tante famiglie e di sicuro apprezzata anche dai ristoratori che hanno visto il tutto esaurito.